Sopralluogo questa mattina della Commissione Ambiente all'area verde di Via Pigna sottostante lo svincolo della tangenziale. Attualmente chiuso al pubblico causa lavori di adeguamento sismico, lo spazio è attrezzato con giochi, tavoli e panche in legno e per anni, dagli inizi del 2000, è stato frequentato dagli abitanti del quartiere, seppur in assenza di un'apposita convenzione tra la tangenziale che ne è proprietaria ed il comune. Spetterà al Ministero delle Infrastrutture al termine dei lavori previsti per il 2018 definire il futuro stato dell'area e decretarne alla luce delle normative in materia di sicurezza la destinazione a parco pubblico. In attesa che ciò avvenga, la Commissione presieduta da Marco Gaudini ha inteso valutare la possibilità di recupero e riutilizzo in altri spazi delle strutture esistenti. La situazione è abbastanza complessa perché c'è un'area lasciata un po' al degrado, è un'area che in questo momento è in capo alla tangenziale, che doveva essere consegnata al comune con la sottoscrizione di una convenzione. Questa convenzione risaliamo al periodo del 2007, non è stata mai siglata e quindi è una cosiddetta area borderline, che non si capisce bene la competenza. In questo momento la tangenziale sta facendo dei lavori in quest'area di adeguamento sismico ai viadotti. Ci sono delle strutture, delle attrezzature che venivano suffruite dai cittadini e che vorremmo recuperare. Pertanto appena termineranno i lavori di adeguamento sismico della tangenziale ci rincontreremo con tangenziale e insieme a tangenziale troveremo una soluzione per riaffidare quest'area ai cittadini e renderla fruibile.